Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Buonasera, sono Giancarlo Magalli. Nel 1977 in Rai stavo dietro le quinte di Non Stop. Un programma innovativo per la prima volta senza conduttore. Che sperimentazione! Quanta creatività nell'aria! Sono così contento di portarmi negli anni 70. E' tutto pronto finalmente. Il collegio sta per aprire le sue porte ai futuri collegiani. Passo deciso, larghi sorrisi e l'entrata è ormai vicina. Vengono da tutta Italia. Dove vieni? Napoli. Ma sono uniti dallo stesso obiettivo, fare un viaggio nel tempo. E tra i nuovi arrivati sembra che ci sia qualcuno che il salto lo ha già fatto. Allora, manco il Gepo. Buongiorno. Buonasera. Buonasera, Filippo. Ora è il nostro sondravolta. Per qualcuno integrarsi nel gruppo è questione di secondi. Ma per qualcun altro è un po' più difficile. Mi devo un po' ambientare tutto qua. Il resto ce la farò. Lontano da loro due. Meno male. Per qualcuno. Per qualcuno. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti